Parla fan azzurri benvenuti sul canale notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'azzurra. Ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Calciomercato invernale in pieno svolgimento, tutti i club sono alla ricerca di rinforzi per i rispettivi organici. C'è anche C-ragione in vista della prossima stagione. A tal proposito c'è da segnalare un nome nuovo per l'attacco del futuro del Napoli, secondo quanto riportato da Sky Sport. Infatti, il club di De Laurentiis avrebbe messo gli occhi sul classe 2003 dello Sturm Graz, William Boving. Un profilo giovane, da tenere in considerazione per il prossimo mercato estivo, chi è William Boving? Nasce in Danimarca, a Copenhagen, il primo marzo del 2003 con il calcio che inizia a far parte della sua vita sin dai primi passi. Il suo ruolo naturale è quello di alla sinistra, ma può, all'occorrenza, ricoprire anche quello di punta centrale o di esterno destro, vista la sua abilità nel calciare con entrambi i piedi. Il giocatore è stato grande protagonista contro la Lazio con una doppietta in Europa League, 2-2, punto. È i fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.